Ciao, sono davvero felice di introdurti questo argomento, cioè quello degli obiettivi da scegliere, da pianificare e da calendarizzare, cioè da realizzare in una certa data. Quante volte hai provato a fissare l'obiettivo di dimagrire fino al tuo peso ideale o migliorare quel problema che ti affligge da molto tempo, sgonfiare la pancia, eliminare quella fascia di grasso che hai sull'addome e sui fianchi? Quante volte ti sei detto, ti sei detta basta, adesso voglio riuscire a farlo, per poi abbandonare all'insorgere del primo ostacolo? In questo video imparerai insieme a me a dire e scrivere i tuoi obiettivi in ambito salute, in modo da aiutare la tua mente a farteli raggiungere una volta per tutte. Ti piacerebbe entrare a far parte di quell'élite che riesce a concretizzare velocemente? Non si tratta di semplice fortuna. Vedi, è molto frequente fare pensieri del tipo, lei ha una costituzione buona, lui ha una genetica giusta, lei ha fatto sport da ragazza, ho fatto tutte queste diete e non sono mai riuscito a mantenerle nel tempo. Sì, ho capito che è possibile dimagrire, ma per me non lo è, è troppo difficile, è troppo lungo. Beh, ormai inizio lunedì. Dimmi la verità, è mai capitato anche a te di fare uno di questi pensieri? Non importa se non hai mai detto apertamente a qualcuno una di queste frasi o qualcosa che suonava simile, ciò che davvero conta è il pensiero che ti sei fatto dentro. Gli studi degli ultimi decenni sul funzionamento della mente e del cervello hanno fatto emergere alcune modalità che la mente predilige per ricevere ed acquisire le informazioni. Noi non lo sappiamo, ma se impariamo ad usare il linguaggio giusto per parlare alla nostra mente otterremo da lei più aiuto di quanto non faccia normalmente. Fino a qui mi sembra abbastanza logico, vero? Facciamo un esempio. Tutti noi siamo dotati di mani, eppure diamo per scontato il loro utilizzo, almeno in alcune branche o abilità. Se ti chiedessi di modellare con la creta un vaso, se ti chiedessi di fare un pizzo con l'uncinetto, o se ti chiedessi di intagliare una scultura in legno o qualsiasi altra cosa fatta a mano, riusciresti a farla senza avere prima dedicato del tempo, delle energie, per imparare a usare le tue mani in quel modo, ovvero linguaggio, per ottenere quel risultato. Beh, sicuramente no, perché vedi, il fatto di avere uno strumento come le mani ti permette sì di usarle in tanti modi spontaneamente per fare tante cose, ma per alcune devi allenarti, devi allenarti a usarle proprio in un certo modo, che è molto molto specifico ed è differente, se no non otterrai ciò che vuoi fare. Usare per, ad esempio, fare una scultura o dipingere o fare un uncinetto. Ecco, allo stesso modo ognuno di noi è dotato di un cervello nella scatola cranica e una mente, ma per poter ottenere alcuni specifici risultati da essa dobbiamo investire un po' di tempo per imparare a parlare quel linguaggio che le permette di aiutarci a ottenere ciò che vogliamo da lei. Nel caso della mente come strumento, noi vogliamo che lei ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi, cioè quello che noi desideriamo, quelli che ci proponiamo quando andiamo dal medico nutrizionista, per intenderci. Ricapitolando quanto detto sino a qui, così come dobbiamo imparare un linguaggio specifico delle mani per riuscire a plasmare un vaso, una scultura in legno o un magnifico pizzo, allo stesso modo dobbiamo imparare un linguaggio più specifico di quanto non siamo abituati a fare per usare la nostra mente e farci aiutare da lei a ottenere i nostri risultati, ovvero ciò che noi vogliamo.